Wow! Apriamo insieme questo set. Cosa ci sarà mai detto questa pochette? Bellissima, lo scopriamo. Nuovo set di benvenuto. Il brochet è bellissimo, sono emozionata di presentarvelo perché è troppo, 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 troppo bello. Allora, il regalo è questa bellissima pochette. Ovviamente è legata il brochet, la mia marca preferita da ben 7 anni, I love. Allora, facciate cosa troviamo al suo interno. Dentro trovi un... Che cos'è questo? Un illuminante in crema da utilizzare e sfruttare tantissimo. Soprattutto qui. Soprattutto qui. E' bellissimo, io ne ho utilizzato anche tanto. qui, qui, e qui. Che bello che è questo? Il illuminante in crema, che è importantissimo perché è tanto. Che altro c'è? Un gloss per le tue stupende labbra. Un ombretto, dai, io mi sono innamorata di questo ombretto. Waterproof, resistente all'acqua, con il temperino incorporato. Questo colore è bellissimo. Io l'ho utilizzato qui oggi, come ombretto. È fattetto. Molto, molto bello. E poi... La stilocchi waterproof, anche lei, in regalo. Anche lei con il temperino incorporato, da poter utilizzare la punta come meglio si crede. Io l'ho utilizzato oggi qui. Ho fatto un po' questa linea, molto bella. Che dite, che è spettacolare. È molto scura e molto bella. Poi, questo è il pezzo mio preferito. Se vuoi vedere le tue stupende, questo è il mascara adatto a te. Guarda. Questo mascara è la fine del mondo. Io praticamente utilizzo solo lui. Questo è il risultato. E lo ricevi all'interno della tua pochette. Prima di tutto, all'interno di questa pochette, che io ti manderò direttamente a casa tua, entro cinque giorni lavorerei con il corriere, che ti usurerà la vostra, e ti darà questo bellissimo pacco da scattare. Ovviamente, il prezzo è super spettato solo per questo pezzo di marzo, solo 31,50 euro, tanto che quello che vi ho visto qui dentro, che ho utilizzato. Meraviglioso. Contattami, tu dici a te anche tu.